Con voi la Cuccarini! Ma no, ma no! Scusate, scusate! Ma no, ma non ci siamo, scusate! Questa non è la Cuccarini, questa è Anna Oxa! E lo so, è che prima erano abituati con Fantastico, andavano in onda questa sera. Non ti hanno avvertita, vabbè, vai a riposare, torna a dormire Anna, vai tranquilla, vai, vai! Invece noi continuiamo... Grazie a tutti!